Giuseppe Garibaldi è in realtà fidanzato? Spunta la sua presunta fidanzata che, dopo aver seguito le ultime vicende legate al Gieffino Calabrese al Grande Fratello 2023, si dichiara furiosa. Non viene svelato il nome di questa ragazza. Che ha deciso di contattare Dejanira Marzano e Amedeo Venza per raccontare una storia inedita del concorrente. Che è entrato nella casa di Cinecittà dichiarandosi single. Infatti, Giuseppe si è spesso esposto sull'interesse provato nei confronti di Samira Lui. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la storia creata con Beatrice Luzzi. Questa presunta fidanzata rivela a Dejanira di aver finalmente trovato il coraggio di scriverle. Dopo aver scambiato due chiacchiere con Venza. A questo punto, spiega all'esperta di gossip di essere, la ragazza con cui Giuseppe Garibaldi fino a pochi minuti di entrare al GF e spegnere il cellulare ha sentito. Giurando a mo'. Questa ragazza parla di una relazione importante che avrebbe con il GFino calabrese. Insieme si sarebbero scambiati delle promesse e avrebbero pensato a dei progetti. La ragazza assicura che Garibaldi prima di entrare al Grande Fratello 2023 le aveva anticipato che si sarebbe dichiarato single. Nonostante questo, non immaginava, che potesse creare una storia con una donna solo per aipe. Ebbene, come tanti telespettatori, crede che la relazione nata con Beatrice Luzzi sia forzata. Questo perché, se fosse stata una vera storia non sarebbe esistito il nostro amore. E mentre Garibaldi si trova al televoto, ecco che questa sua presunta fidanzata svela dei fatti inediti. Ovviamente, va precisato che tale indiscrezione dovrebbe essere presa con le pinze. Infatti, per il momento, si tratta di una segnalazione e solo col passare del tempo si potrà avere la verità sulla questione.